per finire di nuovo con mi bemolle minore con la settima maggiore la disposizione delle voci di questi accordi è la seguente nota fondamentale quinta settima e terza per ogni posizione andiamo a vedere adesso le diteggiature bene sul primo grado abbiamo mi bemolle minore con la settima maggiore vediamo la diteggiatura il dito 1 e sulla quarta corda al tasto 1 poi abbiamo il dito 3 sulla terza corda al tasto 3 il dito 4 sulla seconda corda al tasto 3 e il dito 2 sulla prima corda al tasto 2 mi bemolle grazie a tutti grazie a tutti